Buongiorno a tutti, oggi vediamo un termine che descrive una strategia molto comune nella fase iniziale della partita. Il termine è split and down. Vediamo subito un esempio. Nella posizione che vedete il bianco ha tirato un 5-2 e utilizza il 2 per splitare il runner, e il 5 per scendere down dal midpoint. Quindi il termine è molto semplice ma è utile ricordarlo perché appunto descrive una strategia molto comune. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima pillola.